8 anni e 10 mesi, pena ridotta per Elzo Baschini al processo d'appello bis per l'agguato al cardinale Giuseppe Betori e al suo segretario Don Paolo Brogi la sera del 4 novembre 2011 nel cortile della Curia a Firenze. I giudici hanno confermato anche il risarcimento a favore di Don Brogi che rimase gravemente ferito e costretto a vivere con un proiettile nella schiena. In primo grado Baschini era stato condannato a 12 anni e 6 mesi per tentato omicidio e minacce ma poi i giudici d'appello avevano riqualificato il reato in lesioni gravissime riducendo la pena a 9 anni e un mese. La Cassazione un anno fa aveva annullato quella sentenza e ordinato un nuovo processo di secondo grado. Baschini che era in aula uscendo ha fatto gli auguri di Buon Natale ai giornalisti perché il mio non è un Natale ha detto. Il suo avvocato ha spiegato di voler leggere le motivazioni e valutare un nuovo ricorso in Cassazione. In aula rappresenta anche l'avvocato di parte civile per il cardinale Betori e Don Brogi il quale uscendo ha ricordato come l'arcivescovo si è sempre rimesso alle decisioni della giustizia. Un comportamento coerente tanto da ospitare Baschini in una struttura legata alla Curia in attesa proprio della sentenza.